Ciao a tutti amici di Non Aprete Questo Blog, qui è il Gons, sono tornato sul canale per fare un video aggiornamento della collezione perché ho ricevuto un pacco veramente eccezionale da CG Entertainment con dentro dei bei film voglio unboxarlo qua sul canale YouTube, vedere con voi i film, poi in futuro parlarvene anche se di alcune cose trovate già le mie recensioni allora, questo è il pacchetto, io ovviamente l'ho già aperto perché non ho potuto resistere alla tentazione andiamoci a vedere i film che mi sono arrivati e che andranno ad aggiungersi alla mia collezione partiamo con l'unico film che non ho ancora visto che è Triangle of Sadness di Ruben Ostlund è un'edizione Blu-ray, non è proprio un horror credo, però questa maledetta carta edizione Blu-ray vediamo cosa c'è dentro intervista a Dolly D. Leon, trailer, intervista a Ruben Ostlund e scene tagliate e character cards questo qua non vedo l'ora di vederlo poi passiamo a un film che i veri diciamo horrorofili, quelli che cercano sempre qualcosa di strano, di particolare, di nuovo, di fresco, di poco commerciale che hanno apprezzato, arriva ovviamente da A24, distribuito appunto da CG Entertainment, Lamb, con Numira Pace e un film di Vladimir Johansson un film veramente molto molto interessante, con uno stile fuori dal comune, con delle tematiche particolari, con un finale che è anche un po' interpretabile ci sono varie interpretazioni, bellissime atmosfere, bellissima fotografia e grandi attori un film davvero significativo e importante, infatti se ne parla troppo poco Lamb Lamb imperdibile, imperdibile questo film per chi colleziona e per chi ama il cinema horror penultimo questo è un film che ho appena rivisto al cinema perché Wanted l'ha riportato in edizione restaurata sto parlando di Audition di Takashimike, che non ha bisogno di presentazioni edizione numerata, limitata, 1432, che non metti a fuoco, maledetto, metti a fuoco oh, manualmente sono riuscito ok, edizione fighissima ragazzi, veramente il design di questa edizione di Audition è qualcosa di strepitoso credo che molti abbiano, vabbè, deciso per il film, perché il film è eccezionale è un film molto violento, molto particolare, molto profondo, ci sono tantissime cose da dire su questo film trovate la mia recensione di Audition qua su Youtube comunque ne parleremo ancora tra l'altro qua c'è anche un librettino, vediamo un attimo com'è c'è il librettino con un po' di spiegazioni è un film che comunque un pochino necessita di essere esplorato, spiegato ci sono veramente tantissimi temi all'interno sia sul mondo delle donne che su questioni psicologiche, sessuali veramente un film con tantissime tematiche al suo interno è molto lungo il libretto, c'è veramente tanta roba da dire addirittura ci sono delle schedine per i singoli attori complimenti, tra l'altro non costa neanche molto, mi sembra che sia intorno ai 20-21 euro questa edizione è veramente poco secondo me infine un film importantissimo per me anzi è più di un film, sono due film è più di un'edizione, è una celebrazione di un capolavoro è uno dei film rappresentativi per me, della mia formazione, del mio gusto di tantissime cose che attualmente ancora mi piacciono sto parlando di Tetsuo di Tsukamoto edizione strepitosa perché contiene entrambi i film Tetsuo 1 e Tetsuo 2, la mia è la 602 adesso ve la vado ad aprire Tetsuo mi ricorda quando ero un ragazzo tutto sfatto, diciamo, tutto stanco, cotto dalla serata accendevo su Ray 3 e guardavo fuori orario ogni 2x3 il buon vecchio Enrico Gezzi mandava Tetsuo non appena, insomma, ne aveva l'occasione non appena era passato troppo tempo e quindi era impossibile non scoprire questo bellissimo film sicuramente per me è merito suo e non l'ho mai avuto, non l'ho mai posseduto ho avuto una VHS registrata tantissimi anni fa che ho dovuto restituire per quanto questo film era veramente amato da tanti la proprietaria venne a richiedermi indietro la VHS andiamo ad aprirlo senza fare danni oh che meraviglia ragazzi devo dire che ho aspettato per fare il video perché volevo avere un momento di tranquillità ed ero lì molto molto scimmiato all'idea di aprire questi film ho detto vabbè li apro lo stesso invece no, li apro con voi questa è l'edizione questo è il libretto ne uomo ne ferro qua dentro ci sono un po' di poster qui come per Audition vedete che in Audition c'è perché è una startup dietro vedete che ci sono i nomi ecco per Audition per esempio adesso andiamo a vederlo perché io lo voglio trovare chissà come si fa faccio in ordine alfabetico poi magari qualcun altro di voi c'è scrivetemelo nei commenti eccolo qua Thomas Fiolin dove c'ho l'indice mio amico Thomas grande sostenitore di Non Aprite Mi Su Blog che ha partecipato a questa startup e molte altre ci tenevo a farvi vedere questa cosa per dirvi che se partecipate alle startup di CG tanto per cominciare oltre ad assicurarvi una copia potete avere il vostro nome all'interno dell'edizione penso che sia una cosa bella per chi colleziona davvero una vera chicca perché compriamo questi oggetti per tributare questa bellissima espressione artistica che è il cinema li compriamo come come le persone comprano i quadri comprano le riproduzioni perché sentiamo il desiderio il bisogno di possedere l'arte a maggior ragione farne parte in questa maniera simbolica per un collezionista però l'arte del cinema è sempre una cosa molto bella quindi partecipate perché non vi costa niente di più credo non vi costi proprio niente di più e oltretutto supportate comunque la realizzazione di cose che è difficile che vengano realizzate lo stesso come potete vedere accade qua per tolgo un disco per i due film di Tetsuo come potete vedere anche qua ci sono i nomi che dire raga tantissima roba cioè goduria goduria vera vediamo un po' c'è anche Enrico Gezzi che incontra Tsukamoto c'è l'intervista Tsukamoto ragazzi adesso vi faccio vedere di nuovo tutti i film che mi hanno mandato CG vi invito a visitare il sito di CG Entertainment perché ha delle chicche incredibili vi invito a seguirli i loro social sul canale Telegram di CG per non perdervi le offerte ma se volete seguite anche insomma tutti i miei social perché anche io le ricondivido l'ultima cosa che vi voglio dire riguardo a CG è stata introdotta anche la possibilità di risparmiare quindi non pagare totalmente le spese di spedizione se comprate almeno 32 euro di materiale di film quindi vi invito a mettere like a questo video a questo video se vi è piaciuto l'unboxing vi invito a cliccare sulla campanella per attivare tutte le notifiche di seguirmi su tutti gli altri social ma soprattutto di seguire le live che faccio sull'altra piattaforma dove sono molto attivo e dove vi accoglierò a braccia aperte questo è tutto per l'unboxing DCG Entertainment questi sono i film che mi sono arrivati sono veramente tantissima roba sono veramente delle bombe sono delle bombe galattiche e ci vediamo al prossimo video